e ce l'abbiamo fatta altro piccolo traguardo per il canale ovvero quello dei primi 500 iscritti non volevo dirvi grazie in una maniera un po' anonima buttandovelo così in un video qualsiasi ma ho voluto realizzare questo contenuto molto particolare che sono sicuro farà piacere a molti della mia età mi spiego meglio qui ho dei cimeli storici della prima parte degli anni 90 che vi voglio mostrare innanzitutto degli sticker di Dylan Dock una collezione di 224 figurine uscita nel 1991 e che mi è stata regalata da Cristiano e direttamente dagli scavi archeologici del garage della casa dei miei genitori i miei Mighty Max la mia piccola collezione che vi voglio mostrare qui abbiamo delle Polly Pocket da uomo e guardate oltre questa serie bellissima con questo effetto argentato o addirittura l'infrangente ce ne sono alcune che riproducono la copertina dei vari albi altre più particolari che ritraggono alcune tavole dell'opera ovviamente su pvc quindi fondo trasparente sticker speciali sagomati questi bellissimi più classici con le vignette ma sicuramente più particolari di tutti ovvero i trasferibili sul tessuto che robetta ed eccoli qua tutti i miei Mighty Max fedeli compagni di infanzia purtroppo la mano e il ciclope sono incompleti li apriamo tutti un po' insieme così vi faccio vedere come si presentavano guardate che spettacolo il dito indice qui purtroppo ho solo il personaggio principale ovvero Max eccolo qui c'è il tempio che si può andare ad aprire con i suoi bei cadaveri all'interno questa allegrissima zona di sepoltura direi che lo possiamo anche mettere dentro l'albero malefico zombie a tutto spiano il ciclope anche questo incompleto si apriva in questo modo questa era una sorta di sala delle torture abbiamo una ghigliottina passaggio strettissimo con una trappola portale demoniaco con i soliti teschi all'interno Iron Maiden l'immancabile lettino delle torture veramente allegrissimo il ciclope questa che può essere vista sia come una testa horrorifica che come una navicella spaziale guardate che figata un po' più semplice nell'apertura credo che fosse della prima serie nostro Max alieni umanoidi mini navicella spaziale d'assalto qui il tema egiziano era forse quello che preferivo guardate che bello che bella l'ingegnerizzazione per l'apertura abbiamo subito una sorpresa con degli scavi archeologici ovviamente contornati da morti a go go anche una mummia lì sul fondo la punta della coda del serpentassonagli che in realtà è anche la coda di uno scorpione gigante abbiamo la possibilità di aprire anche la bocca del serpente che contiene il suo bel tesoro a sua volta protetto da altri serpenti come se non bastasse una scalinata piena di serpenti sarcofago vuoto apribile con i soliti cadaveri e altri serpenti a nastro e il tempio egizio eccolo qua con la possibilità di aprire il passaggio segreto che cela una temibile mummia vediamo velocemente anche questi che erano piccolini guardate qua ma erano altrettanto simpatici qui abbiamo un essere mostruoso proveniente dagli abissi più profondi con questo granchio demoniaco la morena temibilissima e il nostro Max mega mostro radioattivo solita navicella per il nostro Max cacciatore nucleare vediamo questo è qui in ambiente un po' più cyberpunk con questo automa metallico i suoi vari componenti sparpagliatissimi andiamo avanti solito giochino con la mini navicella debibile mostro dinosauro con l'agguerritissimo cavernicolo il micidiale stegosauro eruzioni vulcaniche anche qui ci sono delle vittime e il nostro Max e questa era una clip davvero lampo con la quale volevo veramente ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dato negli ultimi mesi in cui ho iniziato proprio questa avventura di pubblicazione dei contenuti a tema manga non per questo non avrete le solide raccomandazioni che sono quella di iscriversi al canale lasciarmi un bel like non accettare mai e poi mai caramelle dagli sconosciuti e arrivederci al prossimo video ciao 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 ciao